buongiorno allora nuovo giorno nuovo what a it in a day vlog oggi sto facendo colazione con una specie di bevanda latte non so come chiamarlo alla vaniglia questi avevo già provato sia quello alla vaniglia che quello al cacao ed erano ragazzi buonissimi anche perché li ho provati durante il primo step che è stato il più duro di tutti ve ne ho già parlato il primo step è stato parecchio parecchio interessante quindi quando ho bevuto quei due latti non so come chiamarli quei due drink è stato per me bellissimo perché erano troppo buoni e noi oltre sono talmente tanto buoni che sembrano veramente tipo uno quello al cacao il nesquick questo qua tipo una roba alla vaniglia buonissima allora questo qua che ho preso oggi è la vaniglia ma ne ho una confezione anche al cacao me li sono fatti da entrambi c'erano anche alla fragola però dato che quello alla vaniglia e quello al cacao li avevo già provati volevo andare sul sicuro allora vi dico velocemente le calorie e anche le proteine perché almeno così poi lo bevo e direttamente passiamo al pranzo allora questo ha 95 96 calorie per 250 ml e 15 grammi di proteine ovviamente hanno tantissime proteine le cose che mangio mi vedete in camera mia non perché sono pigra o per chi per cosa perché in realtà mi piace fare colazione la mattina giù in cucina con la finestra aperta l'aria fresca anzi la finestra di camera mia anche se sta per piovere perché mio padre giù in cucina oggi è domenica domenica di solito invita suo fratello e nostra zia quindi sta cucinando tipo delle cose buonissime io non ce la facevo veramente nonostante la mia forza di volontà è molto alta vi giuro che non ce la facevo a stare in cucina con lui e quindi ho preferito venire qua in camera tanto come vedete è una roba che si beve non è niente di che la bevo la sorseggio nel frattempo mi continuo a guardare keeping up with the cargashions e nulla quindi questa sarà la mia colazione che in realtà molto buona in altre 250 ml sono tanto tanto ecco quindi nulla dopo mi faccio una doccia porto fuori i micchi e poi pomeriggio mi devo anche allenare perché ho ripreso ad allenarmi con i miei programmi sia di clothing che con il mio trainer quindi nulla allora ragazzuoli io sto per allenarmi e di solito preferisco allenarmi il pomeriggio tardi così che prima dell'allenamento mi posso mangiare la mia barrettina perché almeno così ho un po' di energie prima dell'allenamento scusate questi capellini ma ho fatto una treccia e non sono riuscita ad acchiappare quei capellini lì allora io ho cominciato un nuovo programma di Chloe Ting e trovate i suoi programmi su youtube se mi ricordo se la liuba del futuro dell'editing si ricorderà vi lascio giù linkato il programma che sto seguendo è un programma di 12 o 15 giorni non ricordo comunque total body e serve appunto per tonificare un po' tutto la zona del cuore le gambe le braccia un po' tutto 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 il booty il culetto e quindi vedremo come andrà sapete che io ho già fatto degli allenamenti di Chloe Ting e mi hanno dato degli ottimi risultati in poco tempo sono super super tosti ma secondo me ne vale veramente la pena ve ne ho già parlato veramente ampiamente su su instagram e mi sono tanto tanto piaciuti e inoltre voglio parlarvi dei miei allenamenti anche qui nei what it in a day perché ha molta rilevanza nel senso oltre al mangiare e a fare la mia dieta un po' particolare ovviamente se io non facessi gli allenamenti e gli esercizi anche se purtroppo non si può andare in palestra ragazzi diventerei una mozzarella e già sono sulla sulla scia perché comunque ho perso tantissimi chili e e si vede che ne ho persi tanti perché mi sto sempre di più non indebolendo come si dice ammollando non è un termine carino da dire lo so ho semplicemente mangiato una focaccia che avete visto e poi l'ho spalmata all'interno con del philadelphia light un non so 20 grammi perché purtroppo l'ho finito di solito posso mangiare un 50 grammi di philadelphia light ma non ce l'ho quindi devo ricomprarlo e avrei preferito il prosciutto cotto all'interno della focaccia però non ce l'avevo e mi sono accontentata del philadelphia adesso mi alleno poi vi do i miei risultati per quanto riguarda l'allenamento perché l'ho smesso tutta l'estate quello di chloe e i suoi sono belli strong quindi sarò mezza morta più morta che viva e poi penso che mi lavo e faccio faccio la merendina non mi metto a fuoco vieni da me ok allora buon pomeriggio io ho finito di allenarmi mi sono lavata incremata vestita ho fatto tutto quello che dovevo fare mi sono anche lavata i capelli e adesso sono tutti belli morbidi e super super profumosi allora sono più o meno le 4 e un quarto io tra una quarantina di minuti faccio la merendina oggi ho una fame assurda perché ho dimenticato di mangiare le verdure in abbinamento alla mia focaccia al philadelphia inoltre avevo detto che il philadelphia era pochissimo perché non ne avevo più e quindi è stato bruttissimo perché ovviamente non avevo abbastanza philadelphia per riempire tutta tutta la focaccia e quindi pomeriggio avevo intenzione di mangiare qualcosa di bello strong ho deciso che mangerò una barrettina allora io ho un pacco tutto assortito pieno di tante barrette diverse avevo già provato quella al caramello forse nel primo what i tina day ed era molto buona e dato che nella confezione ho visto che ce n'era una bianca e sapete la mia ossessione per il cioccolato bianco ho deciso appunto di sperare di trovare quella bianca perché in realtà vedete la confezione è così quindi non riesco a capire qual è quella bianca però dai gusti ce n'erano due che potevano essere secondo me bianca questa qui che ho preso io è al cocco mentre ce n'era un'altra tipo ai frutti di bosco quindi spero sia questa qui quella bianca perché sennò penso sia quella ai frutti di bosco perché avevo un interno chiaro altrimenti ce l'ho al limone al pistacchio al cacao e al caramello che di cui ve ne ho già parlato mi era abbastanza piaciuta e mangio appunto queste barrettine perché sono super super riempitive rispetto magari a qualcos'altro di merenda perché sono veramente belle ciccione come barrettine e questo visto prima hanno 325 calorie per 100 grammi questa barrettina ne pesa 50 quindi saranno 160 calorie più o meno allora è sera io sto per cucinarmi il pranzo eh sì il pranzo geniale sto per cucinarmi la cena e come vi dicevo ho la carne come piatto principale carne rossa e poi in realtà come contorno volevo farmi le zucchine grigliate ma ho scoperto di non avere le zucchine a casa e senza le zucchine non si possono fare le zucchine grigliate 200 IQ e quindi sto ripiegando su una melanzana che ho visto che abbiamo ho una voglia amata di mangiarmi i broccoli, i piselli, altre verdure, la cipolla ma purtroppo non posso mangiarla quindi devo ripiegare semplicemente sulle verdure che posso mangiare adesso taglio la mia melanzana ne posso mangiare 150 grammi allora qua c'è la carne che ha fatto mio padre questa mattina non so che tipo di carne sia penso sia filetto credo penso di sì comunque l'ha fatto la griglia e poi gli ha messo le sue varie spezie e c'è 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 qua ci sono le melanzone che ancora non ho fatto qua ci sono quelle che stanno andando e io giù nella carta da forno ho messo un pizzichino di sale perché l'ultima volta ne avevo messo troppo e non mi era piaciuto poi ho messo questo pepe nero e anche un pochino di paprika così che si aromatizzino un pochino ecco adesso le giro ho cercato di tagliarle ai più sottili possibili per poterle cuocere il più velocemente possibili allora ho quasi finito di cuocere tutte le melanzane alla fine sto facendo qui la carne l'ho messa nella stessa griglia perché tanto ormai era calda non aveva senso riscaldare la microonde secondo me sulla griglia viene anche più buona e nulla non ho dovuto mettere olio né niente perché mio padre l'aveva già condita stamattina allora qua mio papà mi ha condita perché l'ultima volta l'ho condita ma ovviamente non è come l'ha fatta lui e ha messo aceto di mele ho messo un filo d'olio aglio perché sapete che io sono sessionata e ha messo anche la menta che sta benissimo e qua c'è la carne adesso mi continuo a vedere chi finirà qui del Kardashian e niente allora ragazzi sono arrivata alla fine del video non sto andando a dormire perché è abbastanza presto ancora sono più o meno le otto e mezza scusate qua per il nostro amico però dato che questo è un vlog più sul cibo che sulla giornata vi saluto un po' prima allora reso conto della giornata la giornata è andata abbastanza bene per quanto riguarda i pasti la barrettina al cocco ancora la scatolina qui era molto molto buona sembrava veramente un bounty ovviamente dovete prendere tutto molto con le pinze perché non avrà lo stesso sapore veramente di un cioccolatino vero però è veramente buono e non è quella cosa che dici la devo mangiare perché la devo mangiare perché non sto mangiando niente però la mangi e dici è salutare cioè salutare ha poche calorie è buono è gustoso si fa mangiare volentieri inoltre ha tutta la bocca rossa sarà l'aceto che mi irrita un po' le labbra ogni tanto e quindi è andato molto bene la barretta mi è piaciuto moltissimo il mio pranzo un po' così perché ve l'ho già detto i prodotti da forno di questa dieta a me non fanno particolarmente pazzire perché sono un po' si sente cioè proprio nei prodotti da forno come nelle brioche nei crackers nei grissini si sente tantissimo veramente la componente farinosa delle proteine e non mi fa impazzire però con dentro la Philadelphia è stato più fattibile poi riscaldata era quasi quasi buona domani proverò i cornetti con la crema al cioccolato speriamo che vada bene e sono molto contenta sono molto felice perché la giornata nella sostanza è andata bene il pranzo si è un po' fatto un po' così però proprio il resto mi sono veramente tanto riempita e mi piace sempre da sera fare un po' il resume il riassunto della giornata e quindi sono veramente contenta per come è stato oggi sono anche contentissima perché è uscito il primissimo What I Tina Day così un po' speciale ed è stato accolto molto bene dalla mia community ne sono felicissima ho avuto tanti messaggi di supporto anche tanti di voi sembrerebbero aver fatto la stessa dieta che ho fatto io e quindi sono molto contenta vi ringrazio tantissimo per tutto il supporto che mi date tutti i singoli giorni e non vi preoccupate perché mi avete detto mi raccomando fanne altri di questo video perché ne farò tantissimi prima o poi il cibo sarà quello quindi dovrò ruotarlo e vedrete un po' le stesse cose però spero che vi faccia piacere comunque e noi se non ci vediamo domani ci vediamo magari cioè nel senso per voi non sarà domani però non so se domani farò un What I Tina Day oppure no perché cerco di fare un giorno sì e un giorno no perché prendere ciò che mangi tutti i giorni è una cosina che un attimino mi triggera un po' vedrò magari di fare un giorno sì e un giorno no adesso vedo comunque avrete tantissimi video non vi preoccupate e nulla noi ci vediamo al prossimo video vi do un grande grande bacio mi raccomando mettete mi piace a questo video e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto ancora e ovviamente seguitemi anche su Instagram ciao